Alla trota che annega. Dovete venirci a prendere. Doug. Fiondatevi. Non voglio casini. E non voglio ficcarti una pallottola in testa, ma se non mi dai esattamente quello che voglio, qualcuno farà una brutta fine. Come ti chiami? Sparagli. Oh. Molla immediatamente quella pistola. E così? Tu ovviamente sei il grande cazzone. E loro due, i tuoi fianchi, sono le tue palle. Ci sono due tipi di palle. Palle quadrate e toste. E poi le palline musce da finocchi. Sono le tue ultime parole. È meglio che le usi per pregare. Vedi, i cazzoni vanno dritti e ci vedono chiaro. Ma non sono intelligenti. Sentono odore di passera e vogliono mettersi a giocare. E tu credevi di aver fiutato una bella passera. E ti sei tirato dietro anche quelle due palline musce da finocchio per divertimento. Però hai fregato in pieno i tuoi compagni. Non c'è passera qui, solo si fide. Rimpiangerete di non essere nati donne. Da bravo cazzone. Se ci pensi ti ammusci. Cominci a rattrappirti. E le tue palline si rattrappiscono insieme a te. E il fatto che ci sia replica sul fianco delle vostre pistole... E che invece ci sia Desert Eagle. Punto 5-0. Sul fianco della mia... Dovrebbe precipitare... Di colpo te e le tue palle nel tuo buco nero. Andate. A farvi fottere.